Siamo qua in Piazza Ducale con un nostro banchetto per segnalare due questioni importanti. Da una parte è la questione dell'aumento delle tasse, è aumentata l'Imu, è aumentata la Tari, sono aumentate le rette a domanda individuale, cioè è aumentato praticamente tutto ciò che è di competenza dell'amministrazione. E dall'altra parte per segnalare un problema importante che è molto sentito soprattutto in centro a causa delle recenti risse, dei recenti problemi, che è la questione della sicurezza. Sicurezza che la Lega cavalca per alimentare razzismo e discriminazione, ma che noi vogliamo trattare con serietà e dire con altrettanta serietà che il problema della sicurezza è causato da una mancanza di prevenzione, da una mancanza di decoro, da una mancanza di cura del territorio. Per riuscire a risolverlo serve ripensare un nuovo assetto del territorio, totalmente nuovo, caratterizzato da attività culturali ludiche di svago gratuite, caratterizzata da spazi di condivisione sociale per i giovani e caratterizzata in generale da politiche di prevenzione. Dobbiamo fare in modo che i giovani, che quelle persone che sono caratterizzate da un disagio sociale ed economico, si sentano veramente parte di Vigevano e della nostra comunità, perché fino a che non si sentiranno parte di Vigevano, non riusciremo ad avere una vera e propria integrazione che invece è necessaria.